Nuova presenza a Brindisi nel giro di un mese per la V3 Group, questo è un segnale che il vostro interesse verso la squadra di calcio continua? Allora, l'interesse non è cambiato, quindi noi siamo ancora molto fiduciosi in una trattativa che vada a buon fine. In realtà stiamo cercando di capire come andrà a finire, ma il nostro interesse rimane ancora vivo. Capiamo quello che è stato la trattativa fino a questo momento, i passaggi che voi già in un comunicato avete presentato? Allora, noi abbiamo fatto diversi passaggi, l'ultimo passaggio che è quello più importante è che abbiamo avuto un incontro con la proprietà, con il presidente e dei soci, con i quali abbiamo parlato molto abbondantemente. Abbiamo chiesto soltanto delucidazioni su alcuni aspetti economici e finanziari del bilancio che andrà poi presentato entro fine giugno. Quindi abbiamo chiesto delucidazioni per poter eventualmente fare un'offerta degna di chiamarsi tale. Continuano a dirci, abbiamo sentito delle voci dove ci dicono che non abbiamo fatto un'offerta, ma un'offerta non si può fare se prima non abbiamo ben chiara la situazione contabile, economica e finanziaria della società stessa. Siamo andati a Cava dei Tirreni il 27 marzo e lì abbiamo fatto un'unione con Vangone, Bassi e Montella. Quindi abbiamo parlato anche parecchie ore, quindi c'è stato un incontro molto stretto, anche ci siamo confrontati su tante cose. Dei passaggi formali ci sono stati? Si è parlato anche di PEC, di comunicazioni, ci sono state? Assolutamente sì, abbiamo mandato diverse PEC. L'ultima PEC che abbiamo mandata l'abbiamo mandata subito dopo l'incontro che abbiamo avuto con la proprietà, richiedendo spiegazione su alcuni documenti contabili che mancavano per poter studiare tutta la situazione. Ad oggi non abbiamo avuto ancora nessuna risposta, non è mai arrivato niente. La PEC è stata mandata, quindi l'hanno ricevuta sicuramente, ma abbiamo anche telefonato per capire se fosse arrivata, se ci fosse stato qualche problema, quindi la PEC è sicuramente arrivata, alla quale però non è stata data ancora risposta. Voi ovviamente siete degli imprenditori e il vostro progetto sul Brindisi è economico oltre che calcistico? Assolutamente sì, noi abbiamo avuto molti incontri con imprenditori locali che sono molto interessati, abbiamo dei progetti ovviamente di diversa natura, abbiamo incontrato diversi imprenditori locali che si sono dimostrati, come dire, disponibili, interessati e secondo noi con buone possibilità di uno sviluppo anche, diciamo così, che non sia solo calcio, ma che dia in qualche modo lustro alla città anche a livello imprenditoriale e quindi di conseguenza anche a livello sociale. A proposito di compagine societaria, c'è anche un'altra percentuale di quote del 25%, voi avete incontrato, come avete gestito questa fase, che è possibile variazione? Allora, noi preventivamente, prima di incontrare Vangone, Bassi e Montella, avevamo già incontrato Giannelli. Ora, sui social circolano tante notizie sui cambiamenti di quote societari, eccetera. Noi ad oggi non abbiamo avuto nessuna informazione ufficiale, quindi per noi la compagine societaria rimane la stessa. Siamo comunque disponibili a eventualmente parlare con i nuovi soci, se ci fossero. Quindi la nostra disponibilità rimane completa. Cosa vi aspettate adesso nei prossimi passi, soprattutto come tempi? Allora, passi e tempi sinceramente in questo momento non dipende più da noi. Noi stiamo spingendo, abbiamo avuto incontro con l'amministrazione comunale di Brindisi, nella persona del sindaco, del presidente della giunta e dell'assessore allo sport, che si sono dimostrati interessati e disponibili al nostro progetto sul calcio, in questo caso Brindisi, perché il nostro è un progetto, diciamo, a medio-lungo termine, quindi costruire le basi per poter avere poi in realtà una società solida. si sono dimostrati molto disponibili, approfitto per ringraziarli. I passi successivi purtroppo siamo in attesa che qualcuno ci risponda e ci dia indicazione, ci dia, diciamo così, conforto alle mail che abbiamo mandato. Quindi noi abbiamo insistito parecchio, li abbiamo contattati, ma ancora non abbiamo notizie. Per voi sarà comunque indifferente se questo potrà avvenire a breve o arriverà a fine stagione o è una cosa che può cambiare qualcosa? Allora, in realtà il nostro interesse non cambia, quindi noi pensiamo, il nostro è un progetto, diciamo, un po' diverso da quello che è, quindi è vero che c'è un rischio probabile di retrocessione, ma questo non è importante, cioè non ci cambia, non cambia i nostri interessi. Diciamo, quindi in tutti i casi noi difiamo Brindisi, quindi in realtà è chiaro che se dovesse rimanere in Serie D probabilmente sarebbe auspicabile, ma questo non cambia il nostro interesse per la città di Brindisi e per la squadra del Brindisi. A proposito della città, un ultimo passaggio, cosa vi sentite di dire? Vi state facendo vedere fisicamente per la prima volta anche i tifosi? Sì, riteniamo che, io e i miei soci riteniamo che forse, anche farsi vedere forse ha un suo, potrebbe avere un suo effetto. In realtà noi adottiamo sempre un low profile, sono operazioni che sinceramente vogliamo condurre a livello, diciamo, tra virgolette, molto tranquillo. Però ci rendiamo conto che in una piazza come Brindisi anche i tifosi in questo caso hanno diritto di sapere e di conoscere chi in qualche modo è interessato al bene della squadra. Quindi in questo caso ci stiamo esponendo.